Buonasera, 17 e 17 minuti, eccoci per l'appuntamento diventato ormai quotidiano con le due conferenze stampa che stanno scandendo questa emergenza coronavirus in Italia. Stiamo aspettando infatti di vedere quella dell'assessore al welfare della regione Lombardia Giulio Gallera e c'è un segnale che deve arrivare proprio dalla regione Lombardia e poi c'è l'altro appuntamento. Ecco, questa è la pagina di Lombardia Notizie, quella che racconta, che riferisce in diretta della conferenza stampa e di tutte le attività della giunta regionale della Lombardia e poi c'è l'altro appuntamento ed è quella grande stanza, sala nella quale per ora non vedete nessuno. Ecco che è la sede nazionale della protezione civile dove si attende Borrelli, il capo appunto della nostra protezione civile che probabilmente sarà affiancato come ogni pomeriggio da un tecnico, da uno specialista medico per raccontare i numeri nazionali. Prima quelli lombardi e poi quelli nazionali. Per la verità qualche anticipazione dalle regioni è già arrivata, ma intanto diamo qualche altra notizia di questa giornata. Ad esempio con quello che ha detto il Presidente del Consiglio Conte. In un'intervista a un emittente statunitense NBC News ha detto Conte che in questo momento il governo italiano non può dire quando terminerà il famoso lockdown, questo blocco delle uscite dei cittadini dalle città e di tutte le attività produttive considerate non strategiche. Spiega Conte, l'Italia sta seguendo le indicazioni del comitato scientifico e poi aggiunge La nostra risposta forse non è stata perfetta, ma abbiamo agito al meglio sulle base delle nostre conoscenze e i risultati indicano che siamo sulla strada giusta. Allora, i risultati sono quelli che ci sono stati raccontati ieri proprio da Borrelli nella conferenza stampa. Ecco i numeri nazionali. I numeri, ripetiamo, sono quelli di ieri e il raffronto è con venerdì. Quindi quasi 125.000 il totale dei casi italiani con 88.274 positivi. A ieri, alle 17 di ieri, 2.886 i nuovi contagiati. I guariti sfiorano i 21.000, lo vedete, 1.238 persone dimesse dagli ospedali e poi i 681 morti. Purtroppo resta molto alta questa cifra, molto molto alta, che porta il totale a 15.362. Nonostante questo, c'è qualche segnale importante. Lo ha sottolineato, prima l'aveva detto Giulio Gallera dalla Lombardia, 55 posti che si sono liberati nelle terapie intensive. Il conto totale a livello nazionale parla di 74 posti che si sono liberati. Perché è un numero importante, è uno degli indicatori sui quali ci siamo basati. Perché fino a quando saliva ed è salito anche vorticosamente la richiesta di terapie intensive significava che naturalmente la struttura sanitaria nazionale e quella, soprattutto quella regionale lombarda, era particolarmente sotto pressione. Tantissimi contagiati, moltissimi ricoveri, molti dei ricoverati che avevano bisogno non solo dell'ossigeno, primo tipo di terapia o della terapia cosiddetta subintensiva, ma proprio di essere intubati e tenuti sotto controllo. Bene, eravamo giunti a livello quasi di saturazione, ve lo ricordate, abbiamo aperto la regione Lombardia e le altre hanno aperto centinaia di posti nuovi di terapia intensiva per fronteggiare l'emergenza. Bene, allora, questo numero, questo meno 74 di ieri, è la prima cifra dell'emergenza coronavirus che in Italia ha un segno meno, quindi è il primo segno di inversione di tendenza. Dico questo perché finora noi abbiamo parlato di un rallentamento, ma solo di un rallentamento della crescita dei contagiati. La crescita aveva raggiunto percentuali elevatissime, 15, 18, 20% perfino nei primissimi giorni. Adesso è attestata, per la precisione ve lo dico, ieri i numeri parlano di una pressione poco sopra il 4, se non ricordo male. Ecco, gli attualmente positivi, quel 2.886 nuovi contagiati rappresentano il 3,38% in più, il 4,01 nella cifra totale, i 124.632, quindi c'è stato un assestamento, ma resta una cifra positiva, resta ancora il più, quindi aumentano ancora i contagiati. Per la prima volta, invece, sia pure per una cifra molto piccola, 74, ripeto questo numero, 74, e stavolta c'è il meno davanti e vuol dire che è calata un pochino la pressione nei reparti più avanzati della battaglia sanitaria contro il coronavirus. Quelle terapie intensive che sono l'ultima frontiera per cercare di curare i pazienti che arrivano appunto in rianimazione. Allora, noi siamo in attesa di tutti i numeri, Lombardi prima e nazionali poi, ma qualche dato è già arrivato in ordine sparso, poi saranno collazionati, lo sappiamo, da Borrelli, dalla protezione civile a livello nazionale. Per dire, ci sono i numeri della Toscana, sono 175 i nuovi casi positivi registrati a 24 ore dal precedente bollettino, 18 i nuovi decessi, pressoché stazionario, ci dicono le fonti da Firenze, il trend dei nuovi casi positivi e dei decessi rispetto alla giornata precedente. Ma c'è un elemento importante che riguarda la Toscana. Ed è esattamente quello relativo al fatto che il Presidente della Regione Toscana, Rossi, pare intenzionato a rendere obbligatorio l'uso delle mascherine nella sua regione. Potrebbe arrivare infatti un'ordinanza simile a quella decisa appena ieri, ve ne abbiamo dato notizia, mentre arrivava proprio più o meno a quest'ora l'ordinanza del Presidente del Governatore regionale Lombardo Fontana che obbliga da oggi tutti i cittadini lombardi a uscire di casa con il volto e il protetto da una mascherina meglio oppure da altri mezzi che consentono di evitare il rischio immediato di contagio. Il suggerimento sono i famosi fulare, ecco qui intanto è cambiato il cartello e Milano ci dice che tra pochissimo inizierà la attesa conferenza stampa. Bene, da oggi è in vigore questa ordinanza della Regione Lombardia alla quale pare volersi accodare anche il Governatore della Regione Toscana che lo rende noto in un suo post su Facebook. abbiamo deciso, dice Rossi, di distribuire tramite i comuni 10 milioni di mascherine gratuitamente ai cittadini toscani, quasi 3 mascherine a testa e ne abbiamo ordinati altri 10 milioni ed è l'intenzione, intenzione proprio, eccola qui intanto la conferenza della Lombardia. è stata rinnovata l'ordinanza di chiusura per quanto riguarda tutto ciò che sono gli uffici pubblici gli esercizi commerciali, rinnovate tutte le misure per proteggerci dal virus per contrastare la diffusione del coronavirus e tra queste misure la novità, ovvero quella che è obbligatorio in luoghi pubblici proteggere il naso e bocca ovvero utilizzare la mascherina e comunque sempre lavarsi le mani e mantenere le distanze minime e a proposito di questo c'è un messaggio del nostro Presidente Attilio Fontana. L'ordinanza che abbiamo emesso ieri impone ai cittadini quando escono di casa di indossare sempre una mascherina o qualunque indumento copra la bocca e il naso questo per contribuire ad impedire il contagio. Da oggi la protezione civile regionale inizierà a distribuire gratuitamente ai cittadini una prima parte di mascherine che serviranno per i nostri cittadini per poter meglio rispettare l'ordinanza. Ecco, quindi coprirsi naso e bocca come misura per proteggere se stessi ma soprattutto proteggere e rispettare gli altri. È una misura fondamentale, è una misura che noi abbiamo adottato seguendo le linee guida e i consigli di tantissimi virologi tra cui per esempio l'ipidemiologo di fama mondiale Benjamin Cowell che a Science ha dichiarato le mascherine vanno usate perché efficaci, che siano chirurgiche o altro. Oppure anche George Gao che è dalla Chinese Center for Disease Control and Prevention che dice che il più grande errore in Europa e negli Stati Uniti è che le persone non indossano le mascherine e infatti anche gli Stati Uniti hanno cambiato radicalmente il loro punto di vista a proposito dell'utilizzo di qualsiasi strumento per coprire naso e bocca in assenza di mascherine e anche sul sito della CDC quindi l'autorità massima per quanto riguarda la medicina negli Stati Uniti ci sono le istruzioni per costruirsi delle maschere fai da te ma anche le istruzioni, il consiglio accalorato di coprirsi naso e bocca addirittura il governatore dello Stato di New York ma anche il sindaco di New York De Vasio hanno chiesto ai cittadini tutti di mettersi qualcosa davanti alla faccia se non hanno le mascherine e addirittura nel Texas vengono puniti coloro che in pubblico non indossano qualsiasi indumento che croppera naso e bocca addirittura vengono sanzionati con mille dollari una multa di mille dollari però qui siamo in Lombardia e in Lombardia le mascherine le stiamo distribuendo e a tal proposito c'è un piano eccezionale organizzato dalla protezione civile protezione civile Lombarda ovviamente di cui parla il collega Froni Grazie, buongiorno a tutti ma la protezione civile si è subito attivata insieme agli altri assessorati di competenza qui devo ringraziare l'assessore Caparini che ha contribuito in maniera molto forte e decisiva circa l'approvvigionamento delle mascherine nel senso che c'è questa ordinanza e la protezione civile Regione Lombardia tramite il braccio operativo della protezione civile regionale vuole offrire un aiuto a quelle persone che sono in difficoltà nel riferimento delle mascherine perché non le hanno trovate perché hanno bisogno di cambiarla e non riescono a trovarla che sono impossibilitati a muoversi e quindi abbiamo da subito ragionato ad un piano operativo per prevedere una iniziale capillare distribuzione di mascherine a livello territoriale innanzitutto come si è detto è una iniziale fornitura nel senso che questo piano poi proseguirà man mano che arriverà altro materiale auspichiamoci e siamo certi che ne arriverà anche altro anche grazie alla opportuna azione di Regione Lombardia che è arrivata ad una sorta di autosufficienza nella produzione delle mascherine senza più dipendere da importazioni eccetera ma grazie alla certificazione ottenuta qualche giorno fa in alcune imprese lombarde produrranno mascherine per i lombardi e non solo per i lombardi allora per far fronte a questo tipo di situazione come ho detto abbiamo subito preso un piano operativo che dalla Regione che riguarda tutti i territori regionali e riguarda la distribuzione di circa 3.300.000 mascherine 300.000 di queste mascherine saranno distribuite a partire da domani grazie ad un accordo fatto con Federpharma che provvederà tramite grossisti a far avere queste 300.000 mascherine in tutte le farmacie della Lombardia naturalmente la distribuzione sarà gratuita cioè la persona che andrà in farmacia senza la dovuta mascherina la persona che va in farmacia con la mascherina che deve essere cambiata o semplicemente una persona che sa che lì c'è la mascherina che può essere distribuita ecco si reca e lì verrà data la mascherina non solo ma grazie anche a tutta una serie di conoscenze che le farmacie di territorio sviluppano relativamente alla popolazione sarà poi la farmacia stessa di individuare anche persone di una particolare fragilità a cui dare direttamente la mascherina queste sono le prime 300.000 a tutte le farmacie non solo altri 3 milioni come ho detto di questi 3 milioni circa 440.000 sono già state distribuite a tutti i territori nei giorni scorsi stiamo parlando di mercoledì e di giovedì tutti i restanti saranno distribuite a partire da domani mattina già oggi tutte le 2 milioni e mezzo di mascherine sono già nei singoli capoluoghi di provincia perché in una giornata siamo neanche una giornata in mezza giornata siamo riusciti a prevedere questa capillare distribuzione quindi le mascherine sono già sui territori da domani comincerà la distribuzione come avverrà la distribuzione? coinvolgendo naturalmente i territori coinvolgendo naturalmente i sindaci in linea generale abbiamo previsto anche in questo caso un coinvolgimento degli esercizi commerciali e quindi la diffusione e la distribuzione delle mascherine tramite i volontari di protezione civile nei vari negozi di alimentari nei vari super market nelle edicole nelle tabaccherie in posta e in banca cioè in quei posti dove la gente va più spesso e dove per poter andare grazie all'ordinanza regionale deve andare con la mascherina coprendosi il volto e anche qui per la distribuzione varranno le regole che ho detto prima è chiaro che queste regole poi saranno applicate con una sorta di elasticità facciamo un esempio se c'è un piccolo comune dove il sindaco ha il controllo della situazione conosce la situazione sa benissimo quelle persone a cui manca la mascherina o quei nuclei familiari che sono in difficoltà ecco che in questo caso si procederà tramite una ricognizione di territorio o di territorio diverso perché non è un qualcosa di calato dall'alto ma è un qualcosa che naturalmente si inserisce secondo le singole esigenze delle varie situazioni come ho detto tutto il materiale già nei singoli capoluoghi di Forvince in alcuni casi sta già per essere distribuito nei vari comuni e domani inizierà la distribuzione vera e propria diciamo che è stato un lavoro assiluo per questo per arrivare a definire in poche ore questo piano e lo dobbiamo e su questo devo ringraziare ancora tutti i volontari della protezione civile le loro organizzazioni territoriali i cosiddetti i CCV che raggruppano i vari la rappresentanza del volontariato perché in breve tempo siamo riusciti a dare una situazione molto chiara do una singola dislocazione territoriale tanto per fare capire quante dispositivi saranno assegnati per provincia Bergamo 360.000 Brescia 370.000 Como 178.000 Cremona 126.000 Lecco 109.000 Lodi 95.000 Mantua 131.000 Milano 900.000 Monza Brianza 250.000 Pavia 165.000 Sondrio 67.000 Varese 249.000 Con questo sistema poi quando arriveranno ulteriori mascherine con questo sistema o un sistema ormai che sarà rodato così continuerà la distribuzione Ecco ricordo che anzi invito a non fare la corsa alle farmacie invito a non fare la corsa agli esercizi pubblici nei prossimi giorni verranno distribuite con tutti i mezzi a nostra disposizione più mascherine possibile tenendo comunque sempre conto che la ordinanza emessa dice chiaramente di coprirsi naso e bocca lavarsi sempre le mani e ovviamente rispettare le distanze inoltre ricordo come anche molti stanno facendo sui social di non toccarsi gli occhi queste sono le disposizioni minime dal punto di vista igienico-sanitari a cui tutti noi ci dobbiamo attenere uscendo di casa quindi è sufficiente un foulard è sufficiente qualsiasi cosa davanti alla bocca e al naso questo per proteggere gli altri per avere rispetto degli altri e mantenere sempre l'igiene massima possibile delle mani perché con le mani si toccano le superfici e quindi si possono creare elementi di contagio la mascherina che mettiamo a disposizione a titolo gratuito all'inizio in attesa che poi i canali di distribuzione normali si approvvigionino e che quindi ognuno di noi la possa comprare come già oggi accade perché girando per le città girando per i nostri paesi comunque incontriamo persone con le mascherine che insomma da qualche parte le avranno comprate o in farmacia o in negozio comunque sono difficili da trovare ma si trovano il nostro obiettivo è quello di aiutare coloro che invece non l'hanno ancora trovate e quindi dagli uno strumento in più ma è uno strumento in più di protezione quindi non ingeneriamo questa questa corsa alla mascherina in quanto se ci si protegge si mantengono le regole fondamentali la mascherina diventa semplicemente uno strumento in più che vi aiuta e ci aiuta tutti a fermare a lottare contro questo virus ora a proposito di lotta al virus il principale protagonista in trincea grazie mille giusto per farci capire leviamo brevissimamente la mascherina i dati di oggi i dati di oggi continuano a essere dati confortanti anche se ci sono alcuni elementi che ci devono far mantenere alta la guardia soprattutto in alcuni territori il numero dei positivi 50.455 crescono di 1.337 il numero dei tamponi complessivi però cresce passa dai 6.826 di ieri agli 8.107 di oggi quindi questo cosa vuol dire sostanzialmente che noi stiamo facendo più tamponi li stiamo facendo anche agli operatori sanitari ai medici e medici generali gli operatori quindi sia degli ospedali che delle RSA infatti il numero dei ricoverati cresce di sole 7 unità arrivando a 12.009 quindi sostanzialmente questo dato cosa ci dice che si fanno più tamponi che si individuano più positivi che questi positivi però sono coloro che hanno piccolissimi sintomi e che non devono andare in ospedale infatti cresce anche il numero di coloro di circa siamo arrivati a 14.798 crescendo di 1.000 unità di coloro che pur essendo positivi non devono andare in ospedale e vengono lasciati a fare l'isolamento volontario al proprio domicilio perché non hanno una situazione complicata quindi questo crescere dei positivi deve essere letto in questa maniera per cui il dato è confortante il fatto che il numero dei ricoverati cresce praticamente si è quasi fermato oggi siamo a solo più 7 il dato delle terapie intensive siamo a 1.317 addirittura è meno 9 ancora rispetto a ieri che era sceso addirittura di 55 rispetto al giorno prima quindi un altro dato che ci dà un segno importante dell'andamento della diffusione del virus è la riduzione l'alleggerimento delle delle terapie intensive dei posti in terapia intensiva crescono anche il numero dei dimessi siamo arrivati a 28.224 più 184 rispetto a ieri anche il numero dei decessi che sono sicuramente la pagina più drammatica di questa ondata che ci ha travolto siamo arrivati nella sua Lombardia a 8.905 quindi un numero spaventoso che peraltro sappiamo tutti che questo è quello che è riferito a le persone positive che avevano fatto il tampone che sono decedute il numero è sicuramente più ampio coinvolge persone sul territorio nell'RSA questa ondata ahimè ha avuto un effetto letale su un numero molto ampio delle persone più fragili e più esposte questa è la drammatica e cruda verità del coronavirus e questo ce ne dovremmo ricordare per molto tempo è però un dato che oggi quindi ancora non possiamo ritenerlo troppo significativo come elemento ma si riduce rispetto a ieri era di 345 e oggi è 249 in più non voglio ancora dire che sta diminuendo in maniera significativa anche quel dato e quindi l'ultimo dato importante come noi continuiamo a ripeterlo ha un'inversione di tendenza però indubbiamente questo è un elemento che teniamo lì e che teneremo monitorato per i prossimi giorni i dati provinciali adesso torniamo subito da Gallera ma vi voglio riassumere i numeri principali perché abbiamo sentito tre assessori Gallera Caparini e Foroni i numeri principali li ha dati Gallera avete visto più 1337 positivi ma a fronte di un numero molto alto di tamponi quindi è un dato relativamente confortante purtroppo ancora 249 i morti le vittime in Lombardia ma un nuovo numero positivo rispetto alle terapie intensive sono 1317 i ricoverati attualmente sottoposti a queste pratiche che sono l'ultima frontiera diciamo per cercare di vincere il coronavirus ci sono nove letti di terapia intensiva in meno in Lombardia nelle ultime 24 ore questo è il dato positivo meno di quelli del giorno precedente ci ricordava Gallera che sabato su venerdì la diminuzione era stata di 55 ancora meno nove letti di terapia intensiva ma sembra confermato questo trend insieme a quello dell'aumento dei tamponi e alla significativa diminuzione dei contagiati che vengono trovati quindi ci troviamo sempre in quell'alto piano del contagio però a relativamente basso livello che ci deve un po' confortare prima avete sentito sia Caparini che Foroni che hanno a lungo insistito sul tema delle mascherine perché era stata questa vicenda la decisione del governo regionale della Lombardia di obbligare a portare la mascherina o comunque una copertura del viso in esterni un obbligo che era piaciuto abbastanza poco era stato non commentato ma come dire saltato un pochino dalla protezione civile con Borrelli che ricordava che lui non gira con la mascherina perché mantiene quel distanziamento umano sociale come vogliamo dire che consente di evitare il contagio quindi hanno insistito ci sarà la distribuzione di oltre 3 milioni di mascherine nelle prossime ore in Lombardia noi stiamo per tornare da Gallera solo qualche istante ci dobbiamo fermare fra poco torniamo allora torniamo subito a sentire la conferenza stampa di Gallera che vi ripeto se doveste aver perso i numeri ha fornito dati che lui stesso ha definito confortanti rassicuranti i casi i nuovi casi sono 1.337 ma a fronte di 8.107 tamponi 1.337 nuovi casi l'altro giorno cioè sabato su venerdì erano stati 1.598 i deceduti sono aumentati di 249 ancora cifre enormi mentre nelle 24 ore precedenti erano stati 345 occupati altri 7 letti in più per negli ospedali ma sono scese di 9 le terapie intensive Giulio Gallera è quel luogo in cui in qualche modo concentreremo i bisogni di terapia intensiva oggi magari domani anche la subintensiva le degenze di sorveglianza perché stiamo recuperando fino a 200 posti si sta già lavorando al piano terra oggi vedete che li abbiamo collocati al primo piano ma perché i nostri ospedali devono il prima possibile tornare anche a dare una risposta di qualità agli altri bisogni quindi anche in questo con uno scenario che fortunatamente si sta modificando l'ospedale in fiera assume un'importanza ancora più evidente e rilevante ecco allora torniamo a parlare delle mascherine e soprattutto dell'ordinanza del presidente che chiede a tutti i lombardi qualora decidano di uscire dalla propria abitazione quindi è riferito al di fuori dell'abitazione di coprirsi naso bocca con qualsiasi strumento e se hanno la mascherina meglio comunque e sempre rispettare le distanze anche se hanno le mascherine e comunque sempre lavarsi le mani oggi distribuiremo anzi è già in corso dal fine settimana la distribuzione delle mascherine facciamo un piccolo riassunto con il nostro assessore alla protezione civile ci chiedono anzi Renata dice da noi le stanno già distribuendo casa per casa volontari e alpini dopodiché Patrizia ci sottolina come molti scienziati molti tecnici consigliano non solo di proteggere naso e bocca ma anche gli occhi quindi se è possibile utilizzare degli occhiali perché gli occhi sono una parte molto sensibile ottimo consiglio grazie Patrizia Roberto Chiarelli ci dice siete assurdi avete creato il panico con una comunicazione errata e fatto un'ordinanza senza prima rendere disponibili le mascherine ora ribadiamolo l'ordinanza riguarda il coprirsi naso e bocca io credo che ognuno di noi in casa un pezzo di stoffa ce l'ha anche per costruirsi una mascherina artigianale un furar una sciarpa insomma quando si starnutisce normalmente ci si mette la mano davanti alla bocca non lo si fa di fronte alle persone quindi il fatto di proteggersi è un modo per proteggere gli altri quindi fondamentale dopodiché Regione Lombardia ma perché Regione Lombardia è in grado di distribuire gratuitamente delle mascherine lo farà questa settimana e continuerà a farlo però è importante che voi capiate che la mascherina non è sostituitiva della distanza che deve essere sempre e comunque mantenuta non è sostitutiva del fatto di lavarsi le mani e di non portarsi le mani agli occhi quindi è importante seguire sempre e comunque le regole come abbiamo scritto sull'ordinanza poi è ovvio i giornali semplificano a volte può capitare che nella semplificazione dicano Lombardia obbligo della mascherina in Lombardia c'è un obbligo ed è quello di rispettare gli altri ed è quello di coprirsi naso e bocca con qualsiasi cosa sia a disposizione come stanno facendo tutti i paesi occidentali avanzati che sono colpiti come noi da questa immane tragedia senza precedenti e che utilizzano tutti gli strumenti possibili saremmo degli sciallerati saremmo dei pazzi se non vi dicessimo queste cose se non vi consigliassimo il miglior modo possibile per difendervi e difendere anche i vostri cari dopodiché spedirla a casa c'è chi prevede un assegnamento lo state sentendo Caparini è tornato ancora sulle vicende delle mascherine sull'obbligatorietà e sul perché c'è stata la decisione da parte della Lombardia vi ho detto che la Toscana che distribuirà 3 milioni di mascherine pensa di fare lo stesso così il governatore Rossi non sta valutando anche quello della campagna De Luca poco fa è arrivata l'opinione anche del governatore di un'altra regione in grande difficoltà per l'emergenza coronavirus le marche dice Luca Ceriscioli che è il presidente appunto del Consiglio del governo regionale marchigiano che ha chiesto al GORES cioè il comitato che lo affianca il comitato scientifico che lo affianca di verificare l'opportunità di rendere obbligatorio l'uso delle mascherine all'esterno delle abitazioni il tavolo tecnico dovrà valutare se questa iniziativa ha un fondamento scientifico mi diranno loro se e come fare quindi questa è l'opinione mentre ieri mentre oggi c'era stata un'opinione quella del sindaco di Milano Sala che aveva detto aveva definito disorientante l'obbligo se Angelo Borrelli cioè il capo della protezione civile nazionale non usa le mascherine quindi come vedete poi la questione diventa anche un confronto ancora una volta fra governo regionale lombardo e governo nazionale anche se non c'è nessun pronunciamento ma vi ho detto già che Borrelli ieri ha detto che lui non adopera la mascherina perché segue la regola del distanziamento quindi quel metro meglio metro e mezzo meglio due metri di distanza fisica che evita la possibilità del contagio che si usi o meno la mascherina torniamo questo è l'assessore Foroni in questo momento soprattutto assessore alla protezione civile lombarda l'inquadratura è tornata ecco Foroni e ci sono tanti modi per coprirle anche a livello artigianale come detto con un tessuto con un pezzo di jeans per dirti sono tante è chiaro che davanti a questa situazione noi come regione stiamo cercando in tutti i modi di aiutare le persone a dotarsi di una mascherina però la finalità deve essere chiara per non fare confusione e comunque in tutto e per tutto deve prevalere il senso di responsabilità della persona non detto questo come protezione civile grazie a chi ha fornito il materiale alla regione lombardia alla capacità di regione lombardia di approvvigionarsi di questo materiale faremo tutto lo sforzo possibile per raggiungere tutte le persone la maggior parte delle persone che ne hanno bisogno a livello lombardo ecco Giovanna ci dice mia madre 83 anni non esce di casa da un mese non va in farmacia ma infatti sua madre non ha bisogno della mascherina nel senso che se sta a casa non ha bisogno di proteggersi da altri se non da chi sta in casa con lei e quindi adotterete voi nella vostra abitazione tutte le misure necessarie sufficienti per proteggere l'un con l'altro ci sono domande per Giulio Gallera e sono riguardo la durata della terapia intensiva Giampaolo ci chiede chi entra oggi in terapia intensiva se sono quattro settimane e ci sono ancora tante terapie intensive spieghiamo la distanza che si crea tra allora torniamo torniamo a qualche altra notizia adesso c'è la conferenza stampa vera e propria e le risposte alle domande che arrivano online anche a Gallera e gli altri assessori che lo affiancano allora abbiamo detto dei numeri positivi che arrivano o almeno confortanti così li ha definiti Gallera che arrivano dalla Lombardia vi ho detto della situazione in Toscana e vi ho detto soprattutto di quello che ha deciso il governatore Rossi che è quello sta pensando a dichiarare anche lui l'obbligatorietà del viso coperto quando si esce per le strade della regione nel Lazio oggi 123 nuovi casi fra poco dovrebbe essere alle 18 quindi mancano pochi minuti ancora però non si è animata la sala della protezione civile dove c'è tradizionalmente la conferenza stampa ebbene nel Lazio 123 casi di positività con soddisfazione perché per la prima volta la crescita dei casi è al 3% un dato ritenuto confortante dall'assessore della regione Lazio D'Amato e ancora 77 nuovi casi invece quelli in Puglia il totale è mille su un totale di 1103 test con altri nove decessi e poi l'Abruzzo 75 nuovi casi questi i numeri nuovi che arrivano dalle regioni purtroppo invece ci sono notizie sempre drammatiche che arrivano ad esempio dagli Stati Uniti allora qui le agenzie volano e ce ne sono tantissime allora vi ripeto 300 mascherine gratuite domani saranno in distribuzione in Lombardia l'annuncio è arrivato dai tre assessori in questo momento in conferenza stampa a Milano Gallera Caparini e Foroni grazie a un accordo con Federpharma saranno in tutte le farmacie della Lombardia però la distribuzione totale sarà di 3 milioni di pezzi così è stato annunciato con il rafforzamento delle ci ricordavano gli assessori che ci sono diverse opinioni tecniche importanti a favore dell'uso costante in esterni della mascherina e allora ecco qui i dati ancora terribili che arrivano invece da lontano dagli Stati Uniti sono 122 mila 122 mila i casi di coronavirus a New York 4159 morti quasi la metà dei morti su scala nazionale statunitense lo ha detto il governatore dello Stato Andrew Cuomo che ha sottolineato però il piccolo dato positivo che c'è in questo numero cioè c'è una leggera frenata 594 si fa per dire frenata morti rispetto agli oltre 600 dei giorni precedenti allora ancora poi tante c'è il primo calo ve lo dicevo il numero è diminuito 4159 il totale e molta attesa visto che stiamo parlando di eventi internazionali c'è questa sera per il discorso che alle 21 ora italiana saranno le 20 a Londra terrà la regina Elisabetta un discorso che è stato già registrato e anzi forse ho anche qualche anticipazione ecco di quello che dirà perché è stato reso noto qualche cosa ebbene parlerà la regina Elisabetta ed è una novità importante perché non capita spesso in 68 anni di regno quindi dal 1952 a oggi è capitato quattro volte nel 91 quando la regina parlò per la prima guerra nel golfo quando anche la Gran Bretagna partecipò all'operazione Desert Storm poi nel 97 ricorderete tutti sicuramente per la morte di Lady Diana e poi ancora nel 2002 ultimo discorso agli inglesi per la morte della mamma della regina della regina madre e stasera nuovo discorso di Elisabetta che si rivolgerà ai suoi parlerà di un momento di dolore nelle poche scarsa anticipazioni che ci sono state e chiederà disciplina senso di autodisciplina ai britannici peraltro per la verità c'è anche da registrare che sembra cambiare la posizione dell'unico paese europeo che finora aveva lasciato sostanzialmente tutto aperto la Svezia si pensa infatti a Stoccolma di invertire un pochino questa rotta e di andare verso una serie di chiusure perché i numeri cominciano a salire anche in quel paese dice Gallera e forse nella parte in cui non siamo stati collegati che sono confortanti ma alcuni elementi ci devono far mantenere alta la guardia il dato che preoccupa e lo cito è infatti quello di Milano dove si superano gli 11.000 casi di contagio 11.230 411 casi in più rispetto a ieri un dato ma sono parole di Gallera il commento è di Gallera non certo mio che non ci fa stare tranquilli torniamo a Milano c'è proprio Gallera che parla e intanto continuiamo a tenere d'occhio Roma protezione civile siamo ancora in una fase importante molto critica perché guardate non facciamo ancora una volta e noi non lo vogliamo fare l'errore di sottovalutare l'esempio della Cina la Cina ha avuto un dramma di cui conosceremo prima o poi le vere entità perché non ci sono state raccontate ma sta tornando ad avere un numero molto ampio di casi e quindi ahimè purtroppo col coronavirus non potremo a un certo punto dire tra dieci giorni vabbè basta è finito tutto torniamo a fare lo spritz sui navigli no purtroppo per un po' di tempo non sarà così e allora fare un'ordinanza in cui si dice è obbligatorio coprirsi tutelare se è gli altri è perché oggi ancora dobbiamo farlo e scusate non è disorientante è molto chiaro questo messaggio è molto forte è un messaggio che mette della salute dei cittadini e la necessità di lavorare tutti a tutela nostra e degli altri al centro di ogni politica pubblica ed è più forte questo messaggio rispetto a qualche critica che può arrivare perché a noi sta a cuore realmente poter uscire e tutelare e preservare ognuno dei nostri concittadini ecco se posso solo aggiungere ma proprio una breve considerazione è chiaro che non è mai facile prendere decisioni e non lo è in questa situazione in cui siamo davanti ad un virus nuovo ad un virus sconosciuto ad un virus dove non ci sono certezze a livello scientifico però ecco non voglio essere però c'è anche da riconoscere penso che si è dato un oggettivo che fino adesso come Regione Lombardia ha brutto da dire ma le abbiamo azzeccate tutte nel senso che tutte le misure che abbiamo adottato come Regione Lombardia poi sono state prese anche da altre realtà e anzi se fossero state ascoltate altre richieste da Regione Lombardia probabilmente voglio dire tutto sarebbe sarebbe andato un po' meglio in generale ma fa niente allora sentite continua come dire l'elemento sul quale stanno insistendo di più oggi è schierata una batteria di tre assessori regionali questo tema delle mascherine centrale è stata come avete sentito un pochino corretta la linea giustamente si parla anche non solo del presente della necessità di coprirsi il volto per evitare rischi immediati di contagio anche in caso di relativo avvicinamento senza quel distanziamento di un metro e più che ci è richiesto ma anche in prospettiva perché diceva Gallera che ad esempio in Cina dove si teme molto in questo momento il rebound del coronavirus cioè la prima epidemia è stata sconfitta sostanzialmente azzerata adesso ci sono casi di ritorno e c'è il pericolo naturalmente che se l'epidemia non viene tenuta accuratamente sotto controllo possano esserci nuovi focolai e riaccendersi i casi di contagio ebbene dice e ci ricorda già da ora Gallera la mascherina sarà un elemento un dispositivo di protezione individuale che probabilmente dovremo adoperare molto a lungo nei prossimi mesi avete sentito ha adoperato la parola ha detto non è disorientante perché disorientante era stato proprio l'aggettivo che aveva usato il sindaco di Milano Sala Beppe Sala commentando una disposizione che comunque aveva fatto discutere quella di Fontana concludendo però io voglio rimanere fedele a ciò che ho detto ovvero le direttive vanno applicate e non discusse per cui non posso che dirvi così arrivano intanto altri numeri vi cito questo Roma ancora non è partita sono quelli della Sicilia una delle regioni per le quali diciamo c'era grande apprezzione per le strutture nelle regioni meridionali ci sono meno posti di terapia intensiva che nelle regioni del centro nord bene i dati sono relativamente confortanti oggi i positivi sono cresciuti di 48 che porta 1774 queste sono le indicazioni che arrivano dal comunicato della regione Sicilia sono 1774 più 48 ricoverati attualmente ci sono 632 pazienti solo 5 in più rispetto alla giornata precedente in terapia intensiva se ne trovano 76 due in più rispetto a sabato i deceduti sono 116 più 5 rispetto alla rilevazione precedente cioè al giorno al giorno precedente mascherine lombarde non per tutti vediamo Foroni che spiega che le farmacie non le daranno a chiunque subito perché sono già state distribuite e arrivano proprio grazie alla collaborazione con Federpharma ma a chi ne è sprovvisto o a determinate categorie di persone fragili poi arriverà il resto e gli altri 2 milioni e 7 già annunciati dagli assessori torniamo a Milano e intanto aspettiamo sempre Roma grandi esperti d'Italia che in collegamento col Consiglio Superiore della Sanità stanno facendo i test su 100 test rapidi kit rapidi che sono in giro sul mercato a breve probabilmente domani ci verrà data l'elenco le indicazioni di quali sono i più affidabili che in qualche modo possono essere utilizzati ma a livello di screening epidemiologico cioè per capire se alla fine in un certo territorio quant'è la percentuale dei cittadini che l'hanno fatta però io non a caso l'Istituto Superiore della Sanità dice che comunque quel test deve essere confermato dal tampone perché oggi per sapere se è presente il virus o non è presente l'unico dato è veramente il tampone quindi che noi stiamo iniziando a fare perché li facciamo ai medici di medicina generale alla loro richiesta a tutto il personale sanitario che ha o qualche linea di febbre e quindi continuiamo li faremo agli ospiti li abbiamo fatti e li faremo in maniera più massiva agli ospiti anche dell'RSA e quindi anche a tutti coloro che sono sintomatici così come è prescritto nell'inni di guida dell'Istituto Superiore della Sanità e del Ministero della Salute perché queste sono le nostre indicazioni però sui sierologici che sicuramente avranno un'efficacia tra un po' io personalmente non me lo farei fare oggi per sapere se ho il coronavirus se l'ho appena fatto se posso uscire ma aspetterei che fosse la scienza a dirmi che quel test mi dà quel tipo di risposta poi ognuno faccia quello che vuole e in conclusione ricordiamo a Lorenzo che la regione non ha alcun tipo di potere per determinare per definire una zona rossa quindi avremmo tanto voluto per esempio allargare l'area di Codonio dai 10 comuni ai 17 come è stata la nostra proposta purtroppo rigettata da parte del Governo Centrale avremmo tanto voluto abbiamo qui uno dei protagonisti di questa richiesta formalizzata quindi come dire nero su bianco al Governo per chiudere tutta la zona di Nembro e Alzano purtroppo non vi sfuggirà che noi non abbiamo nel potere di chiudere le attività produttive ne disponiamo della Polizia e dei militari per fare rispettare un'eventuale chiusura quindi è evidente a tutti che purtroppo abbiamo proposto e quello che abbiamo proposto ai noi non è stato pienamente accolto e accettato dopo di che un altro tema che ci sollecitano è l'assistenza a domicilio tanto state facendo tanto stiamo facendo ci fermiamo con Milano perché andiamo subito a Roma si è seduto Borrelli e sentiamo i numeri buonasera a tutti ringrazio il professore Silvio Brusaferro presidente dell'istituto superiore di sanità che questo primo erigio mi accompagna in questa conferenza stampa innanzitutto oggi due dati positivi diminuiscono il numero dei ricoverati nei reparti ordinari e il numero dei ricoverati nelle terapie intensive il totale delle persone attualmente positive è di 91.246 persone con un incremento di 2.972 pazienti rispetto a ieri di questi 3.977 sono in terapia intensiva con una diminuzione di 17 unità rispetto a ieri e 28.949 sono ricoverati con sintomi anche qui registriamo una diminuzione di 61 pazienti rispetto a ieri la maggior parte dei pazienti positivi in totale 58.320 pari al 64% del totale sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi per quanto riguarda i deceduti oggi registriamo 525 nuovi deceduti è il numero più basso di deceduti rispetto alla data del 19 marzo dal 19 marzo ad oggi il totale dei guariti è di 21.815 pazienti rispetto a ieri le persone guarite sono 819 in più per quanto riguarda la cross risultano trasferiti alla data di oggi 116 pazienti dalla Lombardia di cui 76 pazienti afflitti da coronavirus e 40 pazienti non colpiti da coronavirus un'altra buona notizia è quella che da oggi si interrompe il trasferimento dalla Lombardia verso altri ospedali perché la situazione degli ospedali della Lombardia è tale per cui non c'è più bisogno dell'alleggerimento di pazienti dalle terapie intensive della Lombardia la cross rimane attiva ed è pronta a riattivarsi in caso di necessità per la regione Lombardia e per le altre regioni un'altra notizia positiva è quella che arriva dallo Spalanzani per la prima volta i pazienti dimessi sono più numerosi di quelli ricoverati e quindi nel trend generale della riduzione dei pazienti ricoverati per quanto riguarda le forze in campo registriamo 15.550 volontari a questi si aggiungono i Vigili del Fuoco le Forze Armate le Forze di Polizia e il personale sanitario le tende che sono installate all'esterno degli ospedali per il pretriage sono in totale 820 e 151 sono le tende di pretriage negli istituti penitenziari voglio concludere dicendo che oggi ho dato una serie di buone notizie ma voglio anche ricordare che queste notizie non ci devono portare ad abbassare la guardia voglio ribadire l'importante messaggio che il Presidente Conte ha espresso anche oggi è fondamentale continuare a stare a casa ed uscire solo per comprovate esigenze e necessità io mi fermo qui do la parola al Professore Brusaferro prego Professore grazie Dottor Borrelli buonasera a tutti alcuni brevi commenti il primo commento è l'evidenza di come ci siamo più volte detti in questi giorni che la curva ha raggiunto il suo plateau e adesso ha iniziato la discesa e fortunatamente ha iniziato la discesa anche il numero dei morti che è un altro dato estremamente importante che però come sappiamo sono eventi che hanno iniziato hanno contratto l'infezione due settimane fa quindi questo vuol dire che un po' tutto il sistema sta portando a un rallentamento significativo della diffusione il secondo elemento mi associa a quanto ha detto Dottor Borrelli questo dato positivo che ci aspettiamo nei prossimi giorni possa essere confermato è un dato che però va conquistato giorno dopo giorno e quindi le misure adottate sono efficaci da questo punto di vista ma è altrettanto importante che manteniamo questo tipo di attenzione questo tipo di rispetto delle misure perché sono proprio queste misure che ci aiutano a far decrescere la curva il terzo elemento di riflessione è che dovremo cominciare a pensare a una fase 2 come l'ha definita il Presidente del Consiglio Conte e ovviamente questa si può pensare se questi dati si confermano perché vuol dire cominciare a riflettere su come mantenere basso il contato la diffusione della malattia perché è l'unico requisito che ci consente poi di mantenere o di considerare misure o alternative necessarie alla nostra vita ma allo stesso tempo necessarie a mantenere il numero di nuove infezioni sotto la soglia del famoso R0 uguale a 1 ma soprattutto contenerle al massimo possibile mi fermo diamo spazio alle vostre domande allora allora riassumiamo adesso torniamo subito alle domande intanto rivediamo il cartello perché è molto significativo anche rispetto a quello che ha detto il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro vedete i casi sono 128.948 4.316 in più gli attualmente positivi sono 92.246 circa 3.000 più del giorno precedente in linea sostanzialmente con il dato di ieri con il dato di sabato erano circa 2.900 abbiamo 819 guariti che portano il totale a quasi 22.000 e qui sono un po' meno erano stati 1.200 il giorno prima ma il dato significativo di oggi sono questi ahimè ancora 525 vittime che portano il totale al numero altissimo 15.887 ma sono erano stati 681 nella giornata di ieri piccolissimo l'incremento in diminuzione anche questa volta del numero della terapia intensive ieri erano si erano liberati 74 letti oggi solo 17 ma questo è un ulteriore elemento ma la cosa che ha detto importante il professor Brusaferro è che tutti questi dati ci fanno comprendere che il picco probabilmente è stato raggiunto e abbiamo imboccato lentamente la strada di una discesa che ci deve far riflettere si è riferito anche alle parole del presidente del consiglio Conte sulla cosiddetta fase 2 cioè quando arriverà questa fase 2 quando un contagiato non contagerà una o più persone quindi allargando ulteriormente l'epidemia ma diminuendo cioè per ogni contagiato ci sarà meno di un nuovo contagiato quindi lentamente il fuoco diciamo che fa espandere l'epidemia inizierà a spegnersi e diciamo la sensazione e queste sono le indicazioni di brusaferro che quel momento potrebbe essere vicino torniamo però alla conferenza stampa da una parte il distanziamento fisico dall'altra il lavaggio delle mani non dimentichiamo che comunque il contatto diretto indiretto attraverso mani è un altro elemento estremamente importante quindi una fortissima raccomandazione a mantenere altissima l'attenzione verso il lavaggio delle mani con l'uso delle soluzioni idroalcoliche con l'uso di lavaggio delle mani con acqua e sapone ma quello è veramente uno degli elementi altrettanto importanti quanto quello delle mascherine e distanziamento sociale l'altro tema importante è quello della protezione della via aeree che ha una duplice valenza può essere quello di evitare che se noi siamo portatori di qualche patologia insomma delle famose goccioline le diffondiamo intorno e questo potrebbe avvenire eventualmente laddove ci fossero delle persone positive senza saperlo e l'altra cosa può essere invece la protezione rispetto ad altre persone che invece possano veicolare delle loro patologie io credo che il passaggio veramente importante è il tema dei luoghi confinati nei luoghi confinati dove può essere più difficile avere il mantenimento delle distanze quello è un tipo di misura che certamente aiuta le modalità con cui si possono condurre sono più molteplici a me preme ricordare che ci sono le mascherine cosiddette chirurgiche quelle del personale sanitario hanno delle caratteristiche molto specifiche hanno delle caratteristiche di filtraggio particolari che sono necessarie proprio nei contesti sanitari per la popolazione sono previste mascherine anche di livello di filtraggio un po' più basso perché sono esposte a un rischio molto più limitato onestamente quindi dobbiamo avere molto chiaro che dietro il nome mascherina chirurgica si nascondono molteplici tipologie almeno tre tipologie di prodotto quelle sanitarie intese come necessarie al personale sanitario hanno delle caratteristiche molto specifiche quelle per popolazione hanno caratteristiche specifiche ma con livelli di diciamo di filtraggio più bassi rispetto a quelle sanitarie poi la normativa attuale prevede anche ulteriori possibilità di mascherine le cosiddette mascherine dell'articolo 16 che invece non hanno una normazione particolare e che sono fondamentalmente dei sistemi di barriera rispetto alle vie respiratorie Allora si sente poco quindi per un attimo riprendiamo la linea magari sentiremo la risposta di Borrelli la risposta di Brusaferro Borrelli dice che questo il dato di oggi questi 525 morti è il numero più basso dallo scorso 19 di marzo quindi un dato confortante eccolo qui il numero 525 morti il dato più basso dal 19 marzo e Brusaferro ci ricordava che pur sempre si parla di un arco temporale per la malattia eccetera eccetera di due settimane quindi si vede fisicamente diciamo la fase 2 la curva sta scendendo ha detto e comincia a scendere anche il numero dei morti dovremo cominciare proprio a pensare alla fase 2 se questi dati dovessero essere confermati ecco qui Borrelli che risponde torniamo alla conferenza stampa della protezione civile che vanno autorizzate per la mascherina uso della popolazione non ci sono particolari formalità e su questo ci può spiegare meglio lui quindi io credo che le produzioni che si sono avviate consentiranno di rendere possibile la fornitura di mascherina a tutta la popolazione si vado a completare quanto ho detto nella risposta precedente e quanto poi il dottor Borrelli ha specificato noi oggi abbiamo diciamo tre grandi tipologie di mascherine le mascherine cosiddette con facciali filtranti che sono prerogativa e sono necessarie per particolari tipologie di rischio che appartengono al personale sanitario poi ci sono le mascherine chirurgiche ne ho parlato prima che si dividono in tre categorie le prime due con gli standard più elevati appartengono ancora al personale sanitario e poi ci sono le mascherine diciamo un po' più semplice di tipo chirurgica di tipo 1 sono sempre classificate come dispositivi medici che però vengono previste per la popolazione in caso epidemici poi il nostro legislatore ha previsto anche una terza tipologia di mascherine che sono quelle del cosiddetto articolo 16 ovvero sia sono degli strumenti che possono essere fatti di materiale vario e che hanno la finalità che non sono regolamentati per cui in realtà non hanno standard specifici da rispettare e che però hanno la finalità proprio di fungere da mezzi di barriera alle vie respiratorie bene noi parliamo per quanto riguarda i facciali filtranti FFP2 FFP3 c'è l'INAIL che ha il compito da sempre di sovraintendere e di autorizzare questo tipo di produzione per quanto riguarda invece il secondo tipologia le mascherine chirurgiche intese come dispositivi medici quindi tra i livelli l'Istituto Superiore di Sanità è chiamato a dare un parere e a supportare poi le aziende nel percorso di riconversione laddove queste lo stanno intraprendendo mentre l'ultima tipologia non richiede particolari autorizzazioni da parte di enti centrali per quanto riguarda il livello di produzione come credo ieri sarà stato già riferito dal professor Locatelli noi abbiamo avuto sostanzialmente attualmente parecchie aziende che hanno fatto una domanda per avviare una riconversione produttiva per produrre mascherine chirurgiche ribadisco mascherine chirurgiche e sono aziende che in qualche modo in alcuni casi ad oggi circa 79 di loro sono state autorizzate a produrre vuol dire che nella autocertificazione hanno dichiarato di avere rispetto dei parametri degli indicatori che vengono richiesti per questa tipologia di strumento molte stanno lavorando per acquisire l'autorizzazione a produrre vuol dire un'autorizzazione di poter cominciare l'attività produttiva e di accumulare scorte presso la loro azienda e nel frattempo stanno producendo le cosiddette prove ovvero i test sperimentali che dimostrano che quanto viene autocertificato è effettivamente rispettato alla luce delle prove tecniche che vengono richieste che sono prove tecniche definite a livello internazionale man mano che queste aziende poi producono le prove tecniche immediatamente l'istituto provvede ad autorizzare oltre alla produzione e anche la commercializzazione questo è un po' l'iter però parliamo di mascherine chirurgiche che è una fattispecie specifica e che sono dei dispositivi medici come ho già descritto allora ecco la vicenda mascherina l'abbiamo sentita moltissimo nella conferenza regionale della Lombardia e l'abbiamo sentita anche qui cosa ha detto Borrelli ha detto sono stato nuovamente frainteso non indosso la mascherina vi ricordate c'era qualche diciamo strale polemico dalla Lombardia su questa vicenda non indosso la mascherina spiega perché posso mantenere la distanza di sicurezza negli ambienti in cui lavoro e aggiunge è importantissimo l'uso e l'ordinanza della regione Lombardia va rispettata è importante dove non si riesce a rispettare la distanza quel metro almeno che ci viene richiesto per il distanziamento sociale le mascherine parole di Angelo Borrelli sono importanti perché evitano la diffusione del contagio e adesso il professor Brusaferro è tornato a descrivere i diversi tipi di dispositivi di protezione individuale con le mascherine chirurgiche e poi i due modelli con i filtri più diciamo più specifici più per l'uso sanitario e ha fatto sapere che ci sono 79 aziende autorizzate a produrre mascherine chirurgiche che ne hanno fatto domanda e quindi adesso sono alla parte di prova quando l'Istituto Superiore di Sanità verificherà che la conformità di queste mascherine alle richieste necessarie per produrre questi presidi sanitari ci sarà anche la commercializzazione direi che ci fermiamo qualche istante e poi torniamo con la conferenza stampa della protezione civile allora subito alla conferenza stampa della protezione civile sta parlando il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità Brusa Ferro andiamo da lui puoi esprimere un giudizio prima rischia di essere azzardato comunque non avere poi non dare un'informazione corretta quello che posso confermare però se entro la settimana un orizzonte temporale quando finirà se l'avete ovviamente può essere che non si sa ma l'auspicio è che entro la settimana quello che posso testimoniare è che i ricercatori dello Spalanzani così come i ricercatori dell'Istituto i ricercatori ma anche gli operatori di tutta Italia perché in questi giorni parlavo anche con alcuni colleghi di vari ospedali stanno mettendo a punto dei meccanismi estremamente interessanti per velocizzare questo tipo di esami ma anche per esempio in qualche modo ovviare ad alcune carenze per esempio di reagenti e allo stesso tempo aumentare la produttività questo secondo me va a testimoniare un ruolo importante che ha un po' la ricerca e anche gli operatori saniti gli operatori e ricercatori in tutta Italia perché questo sforzo comune effettivamente può aiutarci a superare un momento critico perché poi il tema della disponibilità di test diagnostici è estremamente importante perché la disponibilità può influenzare anche le modalità e le politiche che usi o che puoi raccomandare nell'adozione di questi test questo è un elemento importantissimo avere grande disponibilità consente effettivamente di poter fare anche altre scelte e di poter modellare al meglio la politica per il controllo della diffusione dell'infezione Buonasera Anna Milan di Radio Rai sappiamo che i numeri del contagio reale potrebbero essere molto più ampi rispetto a quello che appare anche seguendo l'andamento dei tamponi c'è lo studio dell'Imperial College che ci dice di possibili 6 milioni di italiani contagiati c'è lo stesso Ricciardi che ha parlato della possibilità di un 20% della popolazione infetta sappiamo che è molto difficile ma ci potete dare un dato ci potete dire qualcosa di più che si avvicini a un possibile dato reale e questo come influirà sulla discesa su quella discesa che abbiamo capito che ci avete detto che sarà lenta Allora in questo momento quello che è in fase di organizzazione è uno studio di prevalenza su scala nazionale è uno studio che mira ad andare a individuare persone che abbiano sviluppato una reazione immunitaria alla infezione ad oggi noi abbiamo stime e sono stime molto diverse tra loro per cui si parla del 5% del 10% qualcuno più del 10% dal punto di vista del significato di questo numero il significato è particolarmente critico ovvero avere un italiano su 10% un italiano su 20% che ha sviluppato una infezione ha sviluppato una risposta immunitaria vuol dire avere la larghissima parte della popolazione ancora suscettibile questo tradotto in termini molto concreti avere una larghissima parte della popolazione suscettibile vuol dire che questa popolazione potenzialmente può diventare positiva o può contrarre l'infezione quindi al di là del valore numerico e certamente anche noi ricercatori siamo estremamente interessati a conoscere la dimensione del fenomeno il significato pratico di questa conclusione è che comunque dovremmo e dobbiamo usare molta cautela e usare misure di distanziamento ed altre misure ancora ancora perché in realtà ripeto in ogni caso se fosse il 90% se fosse l'85% se fosse il 95% ancora suscettibile è un numero molto significativo ed è un numero che se allentiamo l'attenzione o se non siamo particolarmente attenti a controllare la diffusione dell'infezione facilmente può far ripartire la curva epidemica buonasera Lorenzo Di Cicco del messaggero al professor Brusaferro volevo chiedere visto che prima abbiamo parlato dei test sul versante dei farmaci se tra i vari farmaci testati in queste settimane abbiamo sentito tutti di diversi studi ce n'è uno che sta dando migliori risultati al dottor Borrelli invece vorrei chiedere se teme per Pasqua e Pasucchetta un aumento delle persone fuori casa i dati di questo weekend parlano di 9.000 multati quindi se a suo parere è necessario rafforzare i controlli per evitare di vanificare lo sforzo fatto dal paese fin qui con il lockdown grazie sul tema sul tema dei farmaci come ha detto ieri il professor Locatelli AIFA sta facendo un lavoro splendido di coordinamento ed è anche di grande trasparenza sul suo sito di tutte le attività dei trial e delle bracci di sperimentazione che sono attivi e purtroppo io capisco l'attesa però occorre anche in questo caso avere un numero di casi sufficientemente adatto insomma al campione adatto numericamente sufficiente a poter valutare l'effetto di questi di questi farmaci è ancora un po' presto per fare questo ci vuole non è un qualcosa che viene su base quotidiana ma occorre raggiungere questa dimensione del campione che viene stabilita dai ricercatori che lavorano che lavorano presso AIFA nella CTS di AIFA o anche dai ricercatori che propongono la sperimentazione la cosa che possiamo dire è che in realtà ci sono veramente molti studi che vengono proposti quelli che passano il vaglio di un disegno sufficientemente solido e di una plausibilità scientifica poi vengono inseriti immediatamente credo che AIFA non appena raggiunge le soglie è un interesse di tutti rendere pubbliche le soglie minime per poter dire che effettivamente la probabilità che questo principio attivo che quel tipo di trattamento migliori significativamente le condizioni di salute o di sopravvivenza credo che sarà tempestivamente comunicato però bisogna avere un po' di paziente richiedono tempi e numeri c'è un numero sufficiente di pazienti che viene sottoposto e questo richiede anche tempi per poter poi valutare l'impatto sul decorso clinico delle patologie quindi non sono in grado di darle notizie in più di quelle che già sappiamo del numero di sperimentazione gli studi esaminati quelli che sono in progress in fase istruttoria quelli che non hanno superato il vaglio della CTS di AIFA che se volete ve li dico ma credo l'abbia dato ieri il professor Locatelli quindi non li ribadisco sul tema del pericolo che ci possa essere un allentamento di quelli che sono i comportamenti lo abbiamo tutti quanti evidenziato è importante che vengano mantenuti comportamenti molto stringenti che corrispondono a quelle che sono le disposizioni che sono state impartite io voglio in questa occasione proprio perché lei mi ha fatto la domanda ringraziare le forze dell'ordine le forze di polizia che ogni giorno effettuano a diverso livello sul territorio nazionale controlli perché questi controlli costituiscono un deterrente ma a mio giudizio quello che conta è il comportamento assolutamente responsabile che dobbiamo tenere ognuno di noi lo diciamo tutte le sere lo dicono tutti coloro i quali intervengono sul tema e quindi confidiamo veramente nel atteggiamento della popolazione che deve essere corretto e coerente con il comportamento che viene richiesto bene allora se non ci sono altre domande chiudiamo qui buona serata a tutti buona serata e buona domenica allora terminata anche la conferenza stampa di Roma noi proviamo a tracciare un bilancio dei numeri che abbiamo sentito partiamo da una delle affermazioni intanto vediamo il cartello di nuovo che ci racconta di questi 128.948 casi in Italia sono 4.316 in più del giorno precedente l'incremento è del 3,46% un incremento che è sotto il 4 che era più o meno la cifra di ieri poi vedete gli attualmente positivi qui abbiamo raggiunto quota 91.246 quelli di oggi i nuovi contagiati sono 2.972 una crescita del 3,37% anche qui c'è una diminuzione dei numeri aumentano del 3,90 i dimessi e i guariti che sono oggi 819 più del giorno precedente erano circa 21.000 lo vedete siamo a 21.815 la crescita del 3,90 vi dicevo e poi c'è il dato più drammatico quelli 525 morti nelle ultime 24 ore il giorno prima però erano stati 681 il totale generale è a quota 15.887 l'aumento qui è del 3,42% qual è la considerazione che ha fatto il professor Brusaferro cioè il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità ha detto precisamente Brusaferro che la curva ha iniziato la sua discesa e inizia a scendere anche il numero dei morti ripeto la cifra di oggi questo 525 vittime un numero altissimo impressionante è però il dato più basso dal 19 di marzo iniziamo a pensare dice per questo Brusaferro alla cosiddetta fase 2 se i dati dovessero essere confermati quindi a riflettere su come mantenere bassa la diffusione della malattia e questa è la notizia di oggi insomma si comincia a guardare con cautela e attenzione perché sono tornati tutti gli avvertimenti naturalmente le misure di distanziamento sociale umano per intenderci devono rimanere quel metro di distanza sia all'uso delle mascherine perché naturalmente dove questo famoso metro questa distanza fra le persone non può essere mantenuta le mascherine anche quelle chirurgiche aiutano a evitare il contagio mascherine chirurgiche c'è stato ricordato da Roma per le quali stanno agendo molte aziende anche italiane 79 ci ha detto Brusaferro sono state autorizzate alla produzione e quindi perché hanno dichiarato di produrre pezzi di produrre mascherine chirurgiche a norma secondo le richieste dell'Istituto Superiore di Sanità per questo presidio medico chirurgico e naturalmente a questo punto siamo alla fase di prova se sarà superata la fase di prova entro pochi giorni dovrebbero essere commercializzate le mascherine delle quali c'è una grande richiesta in tutto il territorio nazionale e quindi l'auspicio della protezione civile è che prestissimo si possa coprire il fabbisogno nazionale almeno per questo tipo di protezioni che sono quelle diciamo globali per tutta la fascia più ampia della popolazione per il movimento soprattutto in vista proprio della fase 2 perché non dobbiamo nascondercelo adesso abbiamo la tappa del 13 poi però probabilmente slitterà ancora la riapertura che avverrà parzialmente per tappe ancora non sappiamo il governo ce lo dirà prossimamente con le prossime decisioni bene sicuramente però dovremo prendere delle cautele nella nostra vita sociale perché l'epidemia che pure sta rallentando la sua corsa naturalmente resta presente nella nostra vita e con questa dovremo fare i conti nei prossimi mesi ce lo ricordavano anche in Lombardia in Cina dove abbiamo avuto zero nuovi casi sostanzialmente circa una decina di giorni fa bene adesso c'è ancora qualche focolaio e bisogna essere attentissimi a soffocare le piccole grandi riprese dice ancora Brusaferro il numero dei nuovi casi è in fase di decrescente quindi ci aspettiamo che sia i ricoveri che i decessi vadano in decrescita quindi allora se ci aspettiamo un picco e poi una caduta bene questo è evidente che non è accaduto e che non accadrà perché le curve di un'epidemia sono completamente diverse da quelle del picco e della caduta il picco c'è e dura un po' di tempo poi la discesa dei contagi perché un paziente un contagiato non contagia più di una persona e quindi scende questo numero a meno di uno e lentamente si va a spegnere il focolaio e con questo l'epidemia bene questi numeri ci dice Brusaferro sulla base dei dati che oramai durano da diversi giorni e quindi consentono di fare questo tipo di previsioni i numeri ci dicono che il trend è in calo quindi ci aspettiamo lo ha detto Brusaferro che sia i ricoveri che i decessi vadano in decrescita l'attesa nei prossimi giorni è quindi quella di vedere questo trend che continui naturalmente abbiamo sentito questo dibattito sia a Roma che a Milano a Roma da 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 Borrelli e da Brusaferro Borrelli che ha spiegato io riesco a rispettare il distanziamento quindi non adopero la mascherina per questo ma la mascherina è uno strumento indispensabile anche quando la distanza non è quella Brusaferro stesso lo ha ribadito raccontandoci che si è al lavoro per rendere l'Italia sostanzialmente autonoma per la produzione di mascherine chirurgiche che fino allo scoppio dell'epidemia del coronavirus naturalmente avevano una richiesta relativa a Roma si è sottolineato con forza naturalmente però che gli atteggiamenti della popolazione devono rimanere consoni alle richieste del distanziamento sociale quindi però in questo momento sembrano non bastare i richiami che arrivano dalle autorità neanche le sanzioni neanche le multe perché ci sono state diverse situazioni in cui ancora le pattuglie delle forze dell'ordine che continuano a aumentare i loro controlli soprattutto nei weekend e soprattutto in vista di Pasqua che si avvicina la prossima settimana e delle altre festività continuano servono degli atteggiamenti adeguati a questo tipo di richiesta Borrelli anche in vista alla Pasqua occorre mantenere comportamenti stringenti ha detto il capo della protezione civile e questo è fondamentale e ha ringraziato il lavoro continuo delle forze dell'ordine fondamentali affinché il comportamento di tutti noi sia sempre mantenuto nel senso di responsabilità a Mirano e l'altro dato che volevo sottolineare due dati ancora da Borrelli e protezione civile il fatto che ci sono 17 livello nazionale 17 posti di terapia intensiva occupati in meno su scala nazionale ieri erano di più erano stati 74 ma anche qui il numero che continua a essere con quel meno davanti è confortante meno 9 mi pare che siano le terapie intensive in Lombardia quindi anche lì vanno meglio non posso dire bene non possiamo dire bene ma vanno meglio le cose e diceva Borrelli che a questo punto non è più necessario il trasferimento in ospedali di altre regioni dei pazienti dalla Lombardia perché è scesa è scesa e questo è un dato molto importante la pressione che c'era stata proprio sul sistema sanitario nazionale Lombardo che quindi a questo punto può fronteggiare i nuovi casi che nella sola Lombardia ieri sono stati nelle ultime 24 ore sono stati 1337 con 249 decessi un numero ancora molto alto non ci stanchiamo di sottolinearlo ma con numeri che Gallera ancora una volta ha definito relativamente confortanti arrivano adesso i numeri di un'altra delle regioni dell'emergenza il bollettino della regione Veneto che segnala oggi altri 181 casi di positività più i 280 di stamane portano il totale del giorno a 461 sono 11.407 gli infetti dall'inizio dell'epidemia e c'è però questa è la notizia di questa sera un nuovo caso a voi e Uganio vi ricordate il comune dove c'erano stati uno dei primi focolai il focolaio Veneto per la precisione oggi c'è stato un altro caso 15 vittime in Veneto dato complessivo 654 50.000 positivi vi dicevo in Lombardia ma l'aumento inizia a calare abbiamo sentito anche il dibattito relativo ai test sui nuovi farmaci qui c'è grande prudenza naturalmente perché sono tanti i test in corso ce lo ricordava Brusaferro ma ancora nessuno dà l'affidamento perché se la speranza era quella di arrivare rapidamente a un vaccino qualche d'uno all'inizio di questa emergenza globale parlava di mesi beh il tempo il tempo ci vuole c'è qualche qualche società qualche gruppo di scienziati che è un po' più avanti qualcuno un po' più indietro ma naturalmente non è questione di giorni non è questione di settimane è questione almeno di mesi e contiamo di averlo con diciamo per l'anno nuovo e sarebbe già un grosso risultato perché questa epidemia che potrebbe riproporsi magari con come un'influenza chiamiamola così come un coronavirus stagionale come accade purtroppo potrebbe essere fronteggiato molto meglio anche perché adesso ci troviamo in una situazione di pandemia come ben sappiamo poi ci sono i numeri degli Stati Uniti i numeri enormi degli Stati Uniti con i tantissimi morti nello Stato di New York con tra le altre notizie di oggi questa probabile del cambio di atteggiamento tra le novità importanti della giornata del governo di Stoccolma che potrebbe passare da un atteggiamento di sostanziale tutto è concesso a un inizio di blocco delle attività come è accaduto nel resto dell'Europa naturalmente è il governo che continua a lavorare al nuovo provvedimento al cosiddetto decreto aprile quello per il sostegno delle imprese mentre nella nuova settimana ci sarà a livello europeo l'attesissima discussione su quali strumenti Bruxelles mette a disposizione oggi la von der Leyen e la presidente della commissione ha detto che le risorse vanno anche conciliate con il bilancio settennale europeo quindi forse sembra un pochino rallentare la strada la speranza italiana di arrivare a un corona bond ma è tutto argomento di discussione martedì l'Eurogruppo poi ci sarà un nuovo vertice dei capi di stato e di governo e allora questi alcuni dei temi che alle 20 quindi fra poco più di un'ora affronteremo nel telegiornale allora ci fermiamo qui con lo speciale di questo pomeriggio io vi do appuntamento per il Tg la 7 qualche minuto prima delle 20 grazie e a dopo grazie a tutti